Sì, ho parlato di questo veicolo. Sono molto veloce. Allora, ora andiamo! Ah, posto, e si parte, raga. Ho mai pensato di questo. Raga, ma... Ma... Mi sa che ragazzi abbiamo trovato ragazzi anche nuove cose per... Ecco, per sparargli... Ecco, nuove cose... Nuove armi, ecco, possiamo dire. Ecco, per sparargli ai nemici, ma... Io in trezzo, vabbè ragazzi, li provo tutti, perché in realtà... Non so neanche ragazzi il quale... Cioè... Vabbè... Tipo questo adesso non so ne sa cosa serve. Ecco, ma l'ho usata comunque ora se facciamo una partenza... Veloce... Perfetto, facendo una partenza veloce in quel senso, raga... Una mia volta faccio schifo... Certo... Ho dubbi... Di... Se riuscire a vincere o no... Ho dei dubbi, ma... Eh... Ah... Eh... Questa... Spostatevi... Perfetto... Che schifosi... Guarda, guarda... Cioè... Oh... Come sto guidando, cioè... Cioè... Vabbè, dara di... in ogni modo siamo in prima posizione, ora seconda ragazzi vi giuro mi sto premendo i tasti a caso perché non mi sto capendo neanche ragazzi se andiamo su questa cosa va meglio ragazzi cosa faccio? io ragazzi sto vi giurasi i tasti sto premendo a caso perché non sto capendo cosa devo premere cioè perché dall'ansia di dall'ansia non sto accendo neanche che tasto premere vabbè benissimo l'ho beccato ma non ho niente tanto ho vinto ormai ormai troppo tardi ragazzi meno male che l'avevo fermato in quel momento se no veniva questa donna qua ragazzi scusate non veniva, vinceva e vinceva questa donna qua aaaaaaah questa posta adesso si chiama accampamento militare ehhh con questo adesso non sono riuscito a fare una partenza bene peccato a caso l'ho beccato a caso vi giuro perché a caso anche questo uuuuuh si ma mia arma ecco lasciamo stare ragazzi cioè non è parli mamma mia mamma mia raga ma troppa tro se ma prendami seri qua troppa roba raga ma pur ragazzi la musica è strano ah insomma alla prima posizione perfetto guarda guarda ma quanto siete rotta ah mio quanto siete guardate sentite ci fate quello che volete tanto sono sicuro tanto sono sicuro che vincerò no raga è roba seria cioè io sono sicuro di vincere quindi inutile che ragazzi quelli fanno inutile che inutile che questi ragazzi fanno cioè inutile cioè qualcosa che vi dico cioè ragazzi qualsiasi cosa stanno facendo no per fermarmi inutile tanto ragazzi la gara vincerò io di queste ragazzi non c'è nessun dubbio in realtà ho dei dubbi qua ora no 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 vai sono arrivato al coso al secondo ma sì ma ragazzi quando avevo lanciato il coso ragazzi non l'ho beccato sennò vincevo io ma che ragazzi vincevo io prima che se 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 prima ragazzi prendeva ecco vedete questo che avevo lanciato prima ma non l'ho preso cioè nella prima partita cioè se 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 la prima partita era speccavano al coso al coso al coso al coso sono sicuro che vinceva ma ragazzi la sommestera quello che successe è successo ora ragazzi pensiamo a questa partita eccetera pensiamo a di vincere questa partita guarda 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 che matti sono avuto mi aiuto sentite cioè ma non si può ok cioè ma i stico grazie se mi fermano ogni volta guarda guarda il coso che l'ho lanciato non l'ha neanche beccato pensate voi dopo cioè vedete voi dopo io raga sinceramente se ecco guarda 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 sinceramente se devo dire si mi sa che anche questa partita perderò se devo dire la verità mi sembra che lo perderò questa partita sono il terzo e mi sembra che perderò mi sembra che perderò questa partita sono il terzo e mi sembra che non perderò più pomoglio ecco ecco ora forse abbiamo qualche speranza di vincere abbiamo qualche speranza di vincere ma non so si ah ok questa partita ragazzi l'abbiamo vinta per la fortuna nostra questa è una riuscita di vincere ma per la fortuna questa è una riuscita di vincere ma si ecco 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 ecco